Bene, perché oltre ai punti che sono importanti e ci permetteranno di arrivare prima possibile a quella quota, fa piacere anche il modo come abbiamo vinto. Col Napoli abbiamo fatto una gran partita contro un avversario forte che lotta per vincere il campionato e abbiamo ribattuto colpo su colpo, anzi abbiamo fatto noi per larghi tratti la partita, abbiamo creato tanto. E col Bologna, su un campo difficile contro una squadra ostica che ha badato tanto anche a toglierci le giocate, a toglierci le nostre certezze, abbiamo vinto da squadra vera, da squadra compatta. Quindi sono partite che magari l'anno scorso non avremmo vinto, invece questa volta abbiamo vinto, abbiamo affrontato bene, abbiamo sofferto quando c'era da soffrire, è così che in certi campi si vincono le partite. Io sto bene, sono felice, mi trovo bene qui, mi trovo bene col modo di giocare all'allenatore. Il mio obiettivo è quello di fare sempre meglio, di migliorare dove devo migliorare e arrivare più in alto possibile in campionato. Adesso ci stiamo preparando, stiamo mettendo dentro un po' di forza, stiamo facendo fatica un richiamo. L'Atalanta è una squadra che si è rafforzata nel mercato, non ha stravolto la rosa ma ha inserito dei giocatori bravi nei ruoli dove ne aveva più bisogno, però sono convinto che sarà una partita difficile perché ci conoscono le squadre, sanno che tipo di squadra siamo, che tipo di gioco proponiamo e tante squadre verranno a Reggio a chiudersi per cercare di toglierci le giocate. Noi sapremo trovare le contromisure. Stiamo imparando anche con l'esperienza che abbiamo fatto l'altro anno a soffrire nei momenti in cui bisogna farlo perché purtroppo non possiamo fare la partita contro tutti e per 90 minuti. Ci sono dei momenti in cui si deve fare, dei momenti in cui si deve soffrire e lo facciamo da squadra.